Cari amici, buonasera e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apulia Post Scuola. Oggi abbiamo l'onore e la presenza verso la sede ANIEF di Bari, segretario nazionale dell'ANIEF, il professor Marcello Pacifico. Benvenuto professore. Benvenuti a tutti voi. Il professore sta facendo un giro, un tour nazionale in tutte le regioni perché in questo momento la materia è calda, si parla di contratturità, vero Presidente? Il contratto dei docenti è ancora da un bel po' di anni che non viene rinnovato e a momento tutte le sigle sindacali stanno presentando un attimino quelle che sono le proposte. ANIEF ho visto qualche giorno fa, ci siamo sentiti con il segretario regionale della Puglia, abbiamo un po' parlato. Ci sono dieci punti su cui voi state battendo, vero? Sì, è un momento in cui c'è la legge di bilancio che è in corso di conversione al Senato, poi passerà alla Camera dei Deputati. Noi abbiamo chiesto un'attenzione particolare al mondo della scuola. La scuola deve cambiare, la scuola merita. E merita non solo l'attenzione, ma merita quelle risorse che erano state promesse e che ancora una volta sono state negate. Investire nella scuola non significa solo andare a investire sul personale, quindi stiamo parlando di più di un milione di insegnanti, 300.000 amministrativi e poi senza dimenticare gli educatori. Ma investire nella scuola significa portare innanzitutto una maggiore dignità e valore a questa professione. Questo significa andare a intervenire su degli stipendi che sono al penultimo posto in Europa, addirittura la metà di quelli tedeschi, e che non trovano persino a parità di altre categorie, di altri lavoratori dello Stato, la stessa quantità monetaria per gli aumenti stanziati in legge di bilancio. Un'attenzione al personale amministrativo che viene dimenticato nella scuola italiana, ma che grazie al quale le scuole italiane vanno avanti. Ma poi c'è un problema anche legato alle mancate indennità. Indennità per esempio di sede per chi lavora lontano da casa, indennità di incarico per chi per più di tre anni continua a essere nominato supplente senza essere immesso in ruolo. Un'indennità anche di rischio biologico a tempo del Covid. Quindi sono delle indennità che noi chiediamo attraverso specifici finanziamenti, come chiediamo anche una soluzione al problema del precariato. basta supplentite, ci vuole affrontare in maniera seria e sistematica la fase transitoria del reclutamento di più di 200.000 supplenti che ancora oggi chiamiamo. Poi c'è il problema della mobilità. Chi entra a scuola molto spesso entra lontano da casa e prima di ricongiungersi ai propri familiari deve aspettare diversi anni. E quindi anche questo è un elemento che noi vogliamo che sia posto all'attenzione. e ovviamente il tema della sicurezza, il tema degli spazi, sdoppiare le classi, raddoppiare gli organici. Sono tutti temi che non possono essere solo dei lavoratori della scuola, sono temi di tutte le famiglie italiane e su questo noi ci vogliamo confrontare. Ripeto, senza dimenticare il tema da una parte della sicurezza ma anche dei diritti di ciascuno. Per esempio anche quello di poter scegliere se vaccinarsi o meno è uno, quello sull'obbligo che sarà esteso al personale scolastico che ci vede anche questo intricea. ma senza dimenticare proprio quello per cui lottiamo da tanti anni, c'è quello il tema della precarietà. La precarietà è un tema scottante anche perché comunque ci sono stati vari tentativi negli anni di risolvere il precariato ma in realtà l'emezegna non è stato risolto anche perché quest'anno i numeri non ci dicono che è stato risolto il precariato. C'è comunque una forte ancora carenza di docenti, stiamo assistendo a chiamate nazionali su alcune classi di concorso carenti appunto di docenti, quindi diciamo che siamo ancora lontani. Ma in virtù di questo rinnovo contrattuale e del dialogo che state avendo, si auspica, state avendo con il governo c'è una soluzione per il prossimo futuro, di là di quello che sono i concorsi che sono concorsi in itinere già banditi ormai quasi un anno e mezzo fa. C'è una soluzione auspicabile di immediata esecuzione da parte del governo? Certamente quello che stiamo ottenendo per ora per i precari sono soluzioni che siamo riusciti a ottenere nelle aule dei tribunali. Da anni abbiamo fatto delle battaglie che sono arrivate nelle magistrature superiori, sono arrivate anche in corte di giustizia europea, sono ritornate in Italia in corte costituzionali, in corte di cassazione e abbiamo sancito dei diritti che permettono di disapplicare le norme legislative, le norme contrattuali italiane attualmente vigenti in virtù di che cosa? Della violazione di norme comunitarie. Su quali temi? Per esempio chi è stato precario o chi è ancora precario può rivendicare gli scatti di ansianità che non sono dati per esempio per tutto il periodo della supplenza, cioè se uno è suppento un anno o dieci anni o vent'anni prende sempre lo stesso stipendio, ma se fa un ricorso in tribunale invece gli viene riconosciuto per violazione delle norme comunitarie il diritto ad avere gli altri supplenti, gli altri aumenti di stipendio come per chi è di ruolo. La stessa cosa per esempio perché è stato supplente breve per avere quel salario accessorio che è un assegno mensile che viene dato a tutti quelli che sono stati nominati come supplenti non al 30 giugno o al 31 agosto, ma anche chi è stato supplente al 30 giugno per esempio ha riconosciuto il diritto ad avere pagato le mensilità estive, cioè luglio e agosto se quel posto era senza un titolare e avere pagato anche le ferie, le ferie che devono essere retribuite così come la formazione obbligatoria in orario di servizio deve essere retribuita. Tutto questo poi quando si entra di ruolo trova dei suoi riverberi, delle sue riviscenze nelle ricostruzioni di carriera che purtroppo sono tutte illegittime perché? Perché non riconoscono per intero il servizio per ruolo e allora anche lì poi addirittura i nuoassunti dopo il 2011 che hanno anche prestato magari servizio da precari negli anni precedenti hanno persino ritardato la loro carriera che devono aspettare nove anni per avere un avanzamento. Tutte queste norme sono illegittime. Cosa ha fatto il sindacato? Ma a parte organizzare ricorsi presso i tribunali del lavoro che ripeto in Cassazione sono tutti vittoriosi da sei anni. Stiamo parlando di cifre che vanno da poche centinaia di euro fino a 30-40 mila euro per singolo ricorso. Ma ora abbiamo anche elaborato un calcolatore semplice è un calcolatore che si consulta con una semplicità estrema. In pochi secondi, neanche 40 secondi tre dati messi e già ti simula quanto potresti avere dallo Stato, dall'amministrazione scolastica. Per consultarlo basta andare al link dell'ANIF, ci possono andare tutti iscritti o non iscritti poi ovviamente chi vuole maggiori informazioni dovrà chiedere assistenza, sarà richiamato potrà dare i suoi contatti da un nostro esperto sindacalista per andare a verificare tutta la propria anzianità di carriera, vedere la propria situazione personale, il proprio fascicolo e quindi poter gratuitamente aderire un ricorso per finalmente farsi ripristinare quei diritti che sono stati negati ad oggi dallo Stato. In futuro noi chiediamo nel rinnovo del contratto però un chiaro cenno che vada finalmente a porre fine a questa discriminazione tra personale precario e personale di ruolo perché è solo eliminando questo che finalmente si porterà allo Stato ad assumere tutti i precari attraverso un doppio canale di reclutamento per i docenti che permetta finalmente di reclutare non solo i giovani e più meritevoli coi concorsi ma anche quelli che meritano dopo tanti anni la stabilizzazione da parte dello Stato. Grazie Presidente. Sarebbe da dire che è auspicabile che ormai quello che la Cassazione ha fatto diventare ormai giurisprudenza sarebbe diabolico perseverare e non inserire nel contratto quella che è ormai materia fondamentale nel contratto. Per quanto riguarda i precari Presidente faccio un piccolo passo indietro se mi consente. La famosa diatriba diplomatica magistrale lei parlava della Corte di Giustizia Europea mi sembra di aver capito che ormai siamo agli sgoccioli nel prossimo anno dovrebbe esprimersi. Per quanto riguarda i diplomati magistrali abbiamo presentato un reclamo collettivo al Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel 2018 stiamo aspettando a mesi la pronuncia. Per i precari già abbiamo avuto una prima pronuncia ma il reclamo era stato presentato nel 2017 ed è stata una pronuncia di accoglimento quindi ora ci aspettiamo che le istituzioni europee prendano provvedimenti nei confronti dello Stato italiano. La stessa cosa per chi ha avuto un diploma magistrale perché è assurdo che questo titolo valga per fare le supplenze, per essere inseriti per esempio nella prima fascia del graduatore di istituto e quest'anno per essere immessi in ruolo e invece non valga per l'inserimento nelle GAE nelle ex graduatorie permanenti con una diatriba ormai che dura da più di sei anni e con una disparità di trattamento tra i primi ricorrenti che hanno avuto un esito positivo e gli altri poi che hanno avuto un esito negativo col cambiamento di pensiero dell'ordino giudicante. Speriamo che anche questi docenti abbiano giustizia prima o poi Materia del momento un po' più scottante Obbligo vaccinale Abbiamo visto che l'ANIEF non è chiaramente un no-vax nemmeno pro-vax Si stabilisce un'associazione sindacale che reclama quello che è il diritto a non avere nessun tipo di obbligo quindi alla scelta Come si sta evolvendo? Quali sono le azioni per tutelare tutti coloro che non vogliono incorrere nell'obbligo del vaccino? Quest'estate noi ci eravamo posti all'obbligo del Green Pass la storia come sempre ci dà ragione perché dopo quattro mesi ricominciano le quarantene ricominciano le classi in quarantena ricominciano gli istituti chiusi e questo perché? Perché qualcuno pensava che con l'obbligo del Green Pass si potesse assicurare la dirattica in presenza così non è stato e in me non lo sarà neanche con l'obbligo vaccinale perché? Perché il vero obiettivo che vogliamo tutti anche come sindacato noi vogliamo la dirattica in presenza ma la vogliamo in sicurezza in sicurezza di tutti gli studenti e di tutto il personale e allora tutti questi strumenti sono dei fini allora noi dobbiamo utilizzare gli strumenti per raggiungere il fine il fine è la didattica in presenza come si raggiunge la didattica in presenza? Non con l'obbligo del Green Pass non con l'obbligo della vaccinazione obbligatoria della vaccinazione ma con l'obbligo di sdoppiare le classi noi dobbiamo sdoppiare le classi mantenere il distanziamento e il rispetto delle regole sul distanziamento se le andiamo a rispettare allora possiamo fare didattica in presenza per fare questo ci vuole un investimento dello Stato purtroppo nel PNRR al di là delle mere parole non c'è un euro fisso e fissato su questa voce ancora nella legge di bilancio si parla di cambiare gli organici laddove ci sono della dispersione scolastica come ha chiesto sempre Anif ma senza un euro in più e quindi non si riesce a capire come si realizzerà senza il finanziamento di organici in più allora a questo punto noi ribadiamo l'appello non tradiamo il patto tra lo Stato e i cittadini che è un patto per cui alcuni diritti non sono alienabili e non dobbiamo aspettare sempre i giudici perché guardate i giudici a volte ti dicono sì a volte ti dicono no certamente in Italia sul Green Pass ad oggi hanno detto di no ma non è detto che domani sull'obbligo vaccinale non dicano di sì basti pensare che negli Stati Uniti la corte della Louisiana ha bloccato la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario in Belgio è stato bloccato l'obbligo del Pink Pass però non bisogna sempre aspettare le sentenze e lo dice un sindacato come Anif che comunque sta promuovendo dei ricorsi per disapplicare questo obbligo e per tutelare tutti i lavoratori c'è una direttiva comunitaria la 78 del 2000 che ribadisce che in Europa devono essere elevati tutti gli ostacoli discriminanti nella ricerca del lavoro e c'è l'articolo 19 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea sul principio di non discriminazione che ci vincola a non discriminare per motivi religiosi etichici ancorché per convinzioni personali tutto il personale non bisogna fare una guerra tra Vax Pro Vax No Vax qui non si sta confutando la scienza anche perché la scienza quando è tale è valida in tutto il mondo in tutti i paesi indipendentemente dalla nazionalità qui si sta andando a chiedere al governo di fare le misure giuste per farci fare lezioni in presenza perché sennò purtroppo a febbraio anche quando sarà messa questa vaccinazione obbligatoria se non sarà sospesa dai giudici ci ritroveremo di nuovo sì con tutti i vaccinati ma di nuovo tutti a casa a fare la DAD e questo spieghiamo di nuovo Presidente perché è auspicabile che si trovino delle soluzioni intanto giustamente come diceva lei per sdoppiare le classi c'è bisogno di avere le classi l'altro giorno parlavamo con il presidente regionale dell'ANIEF il professor Spinelli diceva che già in Puglia il 40% se non ha erro delle scuole non ha legibilità quindi diciamo che speriamo prima di salvare queste scuole e costruirne di altre che è ancora meglio anche svecchiare questi palazzi ormai che hanno una certa età speriamo che il governo faccia un atto di coraggio e stanzi un po' di denari per i nostri docenti non peraltro per ringraziarli dell'atto di coraggio avuto in questa frangente di pandemico Presidente io so che lei è molto impegnato le ringrazio dei suoi minuti che ci ha concesso le auguro un buon lavoro e speriamo che tutto ciò un domani sia un ricordo e i docenti abbiano finalmente quel poco di giustizia che hanno diritto d'avere e si speriamo la scuola prima di tutto grazie grazie a lei cari amici grazie ancora della vostra percepazione mi chiamo seguici sulle nostre piattaforme su apuliawebtv.it sulle nostre piattaforme youtube e le pagine valedite notizie o su notizie che rovino notizie e ceglio notizie vi saluto e vi do appuntamento alla prossima la trasmissione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti